È stata una partita molto bella, il Monza l'ha approcciata non al meglio, noi siamo stati bravi, siamo stati in fase di contenimento, di qualità, siamo stati una squadra molto esperta. Alla fine è arrivato il gol, abbiamo ottenuto botta come giusto che sia in queste partite e alla fine è arrivato il gol con delle forze fresche comunque, perché il mister si scherza sempre, dice che non incidiamo mai con i cambi, ma stavolta è andata bene. Ciao, buonasera, torniamo all'azione del gol che poi è quello che ha determinato il risultato e nella fortuna del Perugia anche il passaggio ai playoff. Quando ti sei trovato quella palla da sola davanti al portiere? È stata data una palla comunque perfetta, con i tempi giusti, io ho fatto un bel inserimento come studiamo in settimana con il mister e poi sono stato freddo davanti al portiere, è andata bene così dai, siamo contenti. Grazie. Ciao, Domenico Cantarini, Calcio Grifo. Salve. Diciamo che da tutti i discorsi che si sentono sembra quasi che il campionato è finito, però volevo capire adesso viene il bello? No, no, per noi è appena iniziato, è arrivato, il bello deve ancora venire comunque, iniziamo a lavorare già da domani, da domani mattina e prepariamo la partita col Brescia sabato prossimo, siamo carichi. Cosa si prova quando si segna un gol? È un'emozione importante. Poi un gol importante è stato, quindi non è un gol banale, quindi sono contento, un ringraziamento va al mister, ai compagni e al pubblico che ci sostiene ogni... E' un'emozione importante.